Tecnocam sulla statale a Piancamuno. Oleodinamica, pneumatica e forniture tecniche industriali. Regione Lombardia ha approvato la graduatoria definitiva del bando per accedere alle risorse a fondo perduto necessarie per finanziare interventi di riqualificazione e adeguamento infrastrutturale di rifugi alpini ed escursionistici presenti sul territorio lombardo. In questa prima fase sono in tutto 26 sulle montagne presciane, pergamasche, baltelinesi, leccesi e comasche. Il bando mette a disposizione 1.900.000 euro per interventi di innovazione tecnologica e riqualificazione, finalizzati anche per garantire sicurezza ai fruitori, oltre interventi per l'appattimento delle barriere architettoniche. Gli interventi previsti e descritti nelle domande di ammissione al bando regionale dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2021 e sono connessi all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19. Il contributo regionale copre a fondo prodotto l'80% delle spese ammissibili, mentre il proprietario della struttura deve provvedere al rimanente 20%. Si tratta di una misura pensata per migliorare la gestione sostenibile e l'accessibilità dei rifugi alpinistici ed escursionistici lombardi, valorizzando così il patrimonio naturalistico e ambientale della montagna e della Lombardia. Con le risorse a disposizione verranno riqualificate le strutture che hanno un ruolo importante nell'accoglienza del turismo montano, consentendo ai fruitori di vedere e di vivere le straordinarie caratteristiche di paesaggi in alta quota. Per questa stessa ragione hanno dunque una funzione di alta qualità e di valore aggiunto nell'offerta della montagna Lombarda. Sono nove rifugi persiani entrati nella graduatoria del bando di Regione Lombardia. Nel comune di Cerveno, rifugio Campione, in quello di Cedegolo il Baita Adame, a Borno il San Fermo, a Sonico il Premassone, a Breno il Titasecchi e il Passo Croce Domini, a Pasparto il Colombe, a Pisogna e Medelet e a Ponte di Legno il Val Malza. Nella provincia di Bergamo ci sono tre rifugi entrati in graduatorio che sono il Rino Olmo in comune di Castione della Presolana, il Cesare Benigni a Ornica e il Monte Poglieto ad Aviatico. Per la provincia di Sondrio sono entrati nel bando il Del Grande Camerini a Chiesa di Valmalenco, il Federico in Valdosde di Valdidentro, il Quinto Alpini Bertarelli in Valfurva, il Ponti a Cataeggio, l'Alpe Scogione a Plantedo, il Luna Nascente in Valmasino, il Chiavenna a Campodolcino, il Brasca a Novate Mezzola, il Branca in Valfurva e Gianetti e Piacco in Valmasino per un totale di 10 strutture. Due, i rifugi finanziati in provincia di Lecco, i Buzzoni a Introbio e Cailecco ai Piani di Bobbio. Infine, un rifugio in Riella di Faggetolario in provincia di Como. Ora l'impegno dichiarato dall'assessore alla montagna di Regione Lombardia Massimo Sertori è quello di riparire ulteriori risorse per finanziare i restanti progetti che sono risultati ammissibili ma non ancora finanziabili in quanto con la prima transce era esaurita la dotazione economica a disposizione.